Questa cosa di essere inglese fa un po' ridere perché in realtà io sono inglese, solitamente è una scusa che uso quando faccio le cazzate, perché è una cosa che non posso non rispondere. Lei dice, ma perché hai fatto le cazzate le genere? Eh, perché sono inglese. Cosa vuol dire? Siamo così. Però un giorno mi l'ha detto veramente, soprattutto dopo la litte del latino americano, mi fa, faccio, eh oh, loro sono sudamericani, si struscono, va bene, io sono inglese, non mi piace. E lei dice, ma cosa vuol dire essere inglese? E ci ho pensato, in realtà non sapevo cosa dire, però mi cominciavano a venire delle immagini, dei ricordi. Tipo quando avevo sei anni e ho caduto per strada e mi sono spucciato il ginocchio, no? E io mi sono messo a piangere e mio zio, Michael, che fa militare anche adesso, è entrato nella stanza e mi ha guardato con disgusto totale, no? E fa, ma stai piangendo? Ma sei un maschio o sei una femmina? Noi siamo inglesi, abbiamo conquistato due terzi della pianeta, ma non con gente come te. Non fatti mai più beccati, piangi davanti a me, capisci? E se n'è andato. E io sono rimasto un po' spiazzato da questa cosa. E per fortuna c'era vicino un mio nonno. E lui mi ha chiamato e fa, senti, non ascoltarlo, perché al contrario di quello che dice lui, un vero uomo non ha nessun vergogna di piangere. E questo un uomo, non quelli repressi come lui, non essere mai represso come gli altri inglesi, di non esserlo. Tutto quello che tu hai dentro, qualsiasi cosa che sia, lo devo buttare fuori, capisci? E queste erano parole che io volevo sentire, quindi io sono andato per abbracciare mio nonno e lui fa, che zottocchi? Perché era troppo dentro anche lui, no? Io mio nonno l'amavo tanto perché lui era l'unico maschio in casa, perché mio padre era andato via quando ero molto giovane. Ora, io non mi ricordavo il perché. Io mi ricordo solo che l'aveva litigato con mia madre abbastanza pesantamente. Ma prima che lui è andato via, però, ha detto una cosa che non ho mai dimenticato. Era sotto la finestra e mia mamma buttava giù le valigie. E lui ha preso l'ultimo e prima di andare via ha guardato su e ha detto Ehi! I am not a penguin! E se n'è andato. I am not a penguin! Io ci ho pensato tanti, tanti anni cosa volevo dire quelle frasi lì. E non lo capivo. Comunque è rimasto mio nonno con me e io mi divertivo. Allora, lui non stava bene, non ho mai capito esattamente cosa aveva. In giro lo prendevano, una volta in giro, noi abitavamo nella zona irlandese di Birmingham. E lo prendevano un po' in giro. Lui, per alcuni era un matto, per me era un genio. Vi racconto, ricordatevi che tutto quello che racconto è vero. Allora, la mia storia preferita di lui è questo. Lui metteva la dentiera. Chi conosce Inghilterra sa che di domenica noi facciamo il nostro pasto più importante, Sunday dinner. E su un piatto abbiamo un sacco di carne, verdure, brodi, tutto il mondo c'è su quel piatto lì. Prima lui la mangiava con le dentiere, poi dopo la metteva in un'acqua con una pastiglia, però non piaceva il sapore. Quindi lui ha avuto una bella idea, no? Lui ha pensato, io mangio tutta questa roba, dopo, invece di metterle nell'acqua, lo metto nel succo di arancio. Così, quando ripesco, sa di arancia, no? Genius, no? Il problema è che non ci ha avvisato. Allora, per tanti anni io non ho riuscito a raccontare questa storia, per un motivo. Però vi ripeto, io guardo sempre i documentari di animali e c'era un verso che io non riuscivo mai a descrivere, adesso riesco a descriverlo. Perché io e mio nonno stavamo guardando televisioni, quel pomeriggio di domenica, ed è arrivato un verso dalla cucina che ci ha fatto paura, perché non era umana. Non era né cani né gatta, ma comunque non era umana. Allora, questa storia freeze, pausa un attimo. Io stavo guardando documentari sui leoni maschi sulla savanna e come loro chiamano uno all'altro di notte sulla savanna africana. Quando un leone maschio chiama un altro leone, fanno questo verso qua. Ed è questo che è arrivato dalla cucina. Stavamo guardando tv, è arrivato. What the fuck is that? No, no, cos'era? Lui, non lo so. Ho detto, vai a vedere lui, vaffanculo, io sono vecchio, vai te. Allora, io vado in cucina e vedo mia mamma così, con la bicchiera in mano, ipnotizzata. C'era la bicchiera, vedevo che era metà piena di arancio e usciva qualcosa e io non capivo cos'era. Ma lei era così, con le gocci che scendeva. Ed era preoccupante. E io ho guardato lei, ho detto, mamma, ma stai bene? E lei mi guarda e fa... Uuuuuh! 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 Uuuuh! 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 Non ho mai perdonato per quella storia. Però l'ultima goccia è stata, l'ultima goccia è stata quando una sera siamo tornati dal pub alle 11 e le abbiamo peccato mio nonno che mangiava il mangiare di gatto dalla scatola. E questo era molto preoccupante perché noi non avevamo gatti. Uuuuh! Uuuuuh! Però adesso io so cosa stati pensando, stati pensando, vabbè, roba di gatti, ma con quello che mangiate in Inghilterra? Io invece difendo la nostra cucina e vi dico ancora di più, vi ringrazio, perché adesso vi faccio vedere una cosa che tutti i bambini, tutti i ragazzi e tanti adulti mangiano molto popolare in Inghilterra ed è grazie anche a voi. Spaghetti Bolognese. Allora, ricordando, allora, io penso che questo è spaghetti bolognese, stracotto in una scatola, scade in 2019. Ed è da tre anni che l'ho avuto nei spettacoli. Vabbè. Comunque, questo qua è un buon esempio però del... Vi devo insegnare una cosa qua. Non ci credo che sono qua davanti a tutti gli italiani con spaghetti bolognese dicendo vi devo insegnare qualcosa qua. Però vi lo devo insegnare. È un buon esempio perché per noi inglesi il cibo è carburante. E basta. Capisci? It's not a problem. It's very fast and it's good. It's good. Right? Adesso vi insegno come si fa. Devi aprire la scatola, le metti le spaghetti bolognese su un piatto, lo metti nel microonde per due minuti, non di più se non fa schifo. Poi quando fa pink lo tiri fuori, lo metti sul toast con tanto burro. Ma stati scrivendo? No perché mi rallento. Oh senti, a me piace, a me piace. È buono spaghetti bolognese. No sai che mi fa ridere perché stasera siamo in tv quindi hanno coperto il marchio, perché sennò andavate tutti a comprarla. Sono andato a vedere un inglese stasera in teatro c'era questa cosa deliziosa ma non ci ha voluto dire chi lo vende. Sì eh. Anyway, però è vero, è come il vino. Il vino è solo per obbriacare. Cioè è inutile che io vado a spendere 16 euro su Chardonnay. Cioè a me piace il vino in scatola, costa due euro, risultato uguale, uguale. Perché andare a spendere questi soldi? Ma io non ho mai capito. Infatti io non esco e non è per... Alcuni lo prendono male queste cose, i miei amici, ma io non esco a dar cena con gli italiani, non ce la faccio. Cioè se io faccio la cena con gli inglesi, 10 minuti, compreso discorsi. Vai lì, fai come il benzinaio, carburante, te ne vai. Cioè tu vai a cena con gli italiani, two weeks, man. Due settimane ci vuole per una, una cena. Cioè una settimana, scegliere il ristorante. Un'altra settimana dopo per parlare di cosa abbiamo mangiato quella sera lì. Fuck it, no, come on. Forget it, forget it. No way, carburante, that's all it is. Infatti la prima volta che un inglese va al ristorante qua, è una trauma. Io la prima volta, ed ero anche con una ragazza, quindi volevo fare bella figura, arriva il cameriere, vino in scatola non ce l'hanno mai, chissà come mai, eh? Arriva, dico, spaghetti, wine, spaghetti, vino, cosa ci vuole? Lui deve complicargli le cose, per forza, perché è italiano. Lui vieni, con il tappo, mi vuole fare un'usa di tappo. What's this? Oh, io non voglio fare figura. Sì, è un tappo, give me the fucking wine. Allora, adesso ve racconto una storia vera, è successo in, in, in Pescara. Allora, io ho fatto un pezzo in televisione, una volta, parlando di questo, tutti pensano che è un pezzo di cabaret inventato, non inventato niente. Te lo, te lo racconto. Allora, io sono andato, a Pescara, con mio amico Dave, e noi eravamo, recitavamo lì, quindi il sindaco ci ha fatto l'ospiti importante, eravamo VIP, secondo lui, e ci ha voluto offrire la cena. Ed era tutto una cosa abbastanza elegante, così. E io, e ci ha portato due piatti di tagliatelli con tortufo bianco. Allora, preparatemi, Allora, io, a me puzzava i piedi, questa cosa. E io non so, magari io ho i piedi, particolari, ma, lo stesso, se tu non usi i miei piedi, adesso sono al sano di tanto un fo bianco, te lo dico. È vero. Però io, io, giro tanto, io c'ho sempre nella mia borsa, c'ho il ketchup, no? Ma non ketchup solito, c'è quello messicano, piccante, buono. Anyway, so, io, Dave, ho detto, ma questa puzza un po', no? E faccio, no, no, e la tagliatella, non solo, è questo, no? Cosa facciamo? Allora, io dico, don't worry, don't worry, io c'ho l'ingrediente magico, e lui mi ha chiamato, sei un genio, faccio così, bravo, e io ho cominciato a mettere il ketchup, no? Poi a un certo punto, Dave fa, John, ci stanno filmando, ci stanno facendo le foto, no? E io ho detto, eh, si vede che hanno capito, che è una buona idea, no? Così. Allora, poi dopo abbiamo capito, che c'è un vero problema, perché i camerieri, hanno rifiutato, di tornare al nostro tavolo, ti giuro, dicevo, ma questo è il sordo, excuse me, e i camerieri così, e ci guardavano come fosse un cane, sotto il tavolo, che aveva lasciato una puzza, non lo so, ci guardavano così, e io sono andato a lui, e faccio, ma cosa c'è? E lui fa, non puoi, non puoi mettere ketchup, sul tuffo bianco, così, e io ho detto, ma perché, ma c'è una legge in Italia, che dice che non puoi, e lui dice, dovrebbe esserlo, ho detto, non era quella la domanda, dovrebbe esserlo, perché è questo, no? C'è, in Italia ci sono leggi per cibo, non è scritto da nessuna parte, ma tutti gli italiani lo conosci, questa legge, no? Mamma mia, credo, sai che c'è una statistica, che la frase che provoca più divorzi in Inghilterra è, io ti voglio bene, ma non ti amo più, mentre la frase che provoca più divorzi in Italia è, ti voglio bene, ma le lesagne di mia mamma è un'altra cosa, finito, di voi, di voi. Comunque, io ti dico solo che, se lui ha mangiato, se mio nonno ha mangiato la roba di Gat, dalla scatola, doveva essere buono, perché non era stupido, anzi, e noi, e lui era tutto quello che io avevo, e ci divertevamo, e andavamo al parco, e cercavamo le monetine, e se si trovavano le monetine, si comprava le caramelle, e noi non avevamo niente, però eravamo felici, finché un giorno è cambiato tutto.